Devo confessare che non ero un grande fautore di Barbara D'Urso, anzi per la verità non ho mai visto nessuna sua trasmissione. So solo che la sua televisione, i suoi programmi erano considerati trash, cioè spazzatura insomma. Chiaramente non è che fossero rivolti ad un pubblico che apprezza programmi culturali. Sappiamo però che la stragrande maggioranza degli italiani preferisce guardare programmi spazzatura. E Mediaset se vogliamo è proprio servita a questo, cioè si è rivolta a questa maggioranza della popolazione dandogli in pasto ciò che voleva vedere. Lo stesso Silvio Berlusconi, guardate, diceva apertamente, cioè senza remore, che quando è entrato in politica nel 1994, era certo di avere i voti delle persone che guardavano le telenovelas sulle sue reti televisive. Scoprimmo poi che le telenovelas, programmi certo di un livello culturale estremamente basso, ma potevamo considerarle, non so, come dei capolavori rispetto ai programmi che successivamente le hanno rimpiazzate. Mi riferisco ai cosiddetti reality show, che dovrebbero essere, ritengo, il punto più basso al quale si possa spingere la televisione. Questi programmi, i reality show intendo, mi chiedo, possono essere considerati pericolosi? E sotto certi aspetti ritengo che a questa domanda si possa anche rispondere tranquillamente sì. obiettivamente hanno una capacità di rimbambimento delle persone che li guardano, insomma, non indifferente. Certo, una persona deve già essere rimbambita di suo, ma certamente seguendo questi programmi non può che che peggiorare. Ma sotto questo punto di vista però non ho alcun dubbio nel ritenere ancora più pericolosi i cosiddetti talk show politici. Semplicemente perché in quel caso c'è proprio l'intenzione di rimbambire le persone. In altre parole, il reality show ha come scopo quello di offrire ad un pubblico rimbambito ciò che ricerca. Il talk show è subdolo invece e ha come scopo quello di mistificare la realtà e di condizionare l'opinione pubblica. Sotto questo punto di vista vediamo allora se c'era qualche differenza fra le reti Mediaset e il resto, cioè il RAI e la Sette. Beh, certamente le reti Mediaset trasmettevano un numero maggiore di reality show. I talk show politici delle reti berlusconiane, seppur certo di basso livello, insomma si salvava solo quello condotto da Mario Giordano, erano tuttavia di un livello superiore rispetto a quelli veramente inguardabili trasmessi da RAI e dalla Sette. Fra i talk show trasmessi da RAI e dalla Sette era a mio parere veramente impossibile fare una classifica per stabilire quali fossero i peggiori. non avessero chiesto una cosa del genere? Certo, per un mio gusto personale ritengo che il fondo, il peggio del peggio, l'insuperabile infimo era raggiunto dalla trasmissione condotta da Mirta Merlino. Ebbene, se da tempo si diceva che Silvio Berlusconi non si occupasse più direttamente di Mediaset, tuttavia insomma non si poteva non tenere conto del suo spirito che così aleggiava certamente negli studi a Cologno-Monzese. E allora, oggi che non c'è più, il figlio ha preso una decisione che probabilmente non avrebbe fatto piacere al padre. Ha portato in Mediaset Bianca Berlinguer e Mirta Merlino. A mio avviso è una scelta che si fa fatica a comprendere. Mi devo anche trattenere perché l'argomento è delicato, però penso che ognuno di noi, dopo aver ascoltato quella notizia, sia rimasto perlomeno perplesso. Oggi Pier Silvio Berlusconi ha annunciato ufficialmente che non ha intenzione di entrare in politica, anche se non ha escluso che se ci fosse un'emergenza, insomma, e noi quell'emergenza lì l'abbiamo capita, vabbè, e ha anche di fatto annunciato i palinsesti per la prossima stagione televisiva. Mirta Merlino prenderà il posto di Barbara D'Urso. Certo, per me non cambierà nulla, no? Non guardavo prima Barbara D'Urso, figuratevi se guarderò quelli di Mirta Merlino. Ma sono così, anche praticamente certo, per quello appunto che ho detto prima, che il cambio non sarà indolore, cioè temo che con la scusa di alzare il livello culturale dei telespettatori si cercherà invece di ottenere esattamente l'effetto contrario. Purtroppo sappiamo che la continua discesa del livello dell'informazione non è un problema solo italiano, è un problema planetario, però noi ci riferiamo all'Italia e nel nostro paese esiste una sola rete televisiva che merita di essere vista. Naturalmente mi riferisco a Bio Blu. Per il resto è proprio un gioco al ribasso, al massacro. Pensavate che Barbara D'Urso fosse il livello più basso? Ebbene, eccovi serviti. E allora, se chi la sostituirà si chiama Mirta Merlino? E non posso che concludere dicendo Arridatecela D'Urso!